Entra nel vivo anche nelle province di Varese e Comolo raccolta firme della CISL per promuovere una legge di iniziativa popolare che favorisca il coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni di impresa. Come spiega Paola Gilardoni della Secretaria Organizzativa dei Laghi, la partecipazione attiva dei lavoratori potrebbe esprimersi attraverso diverse forme, gestionale, economico-finanziaria, consultiva. Sul territorio il sindacato sceglie di raccogliere adesioni nei mercati rionali. Si parte da Mariano Comense il 12 settembre e si prosegue nei giorni successivi a Gallarate, Varese, Saronno, Buster, Sizio e Luino passando per le lariane, Como, Olgiate, Erba e Cantù.